Caro popolo di estensionisti, la vostra cattiveria è secondo solo la vostra ignoranza. Fa quasi tenerezza. E se quello che continuate a dire è che vogliamo solo i soldi, ma non vi rendete conto neanche della fatica di ascoltarvi, di ascoltare le credenze che sono più forti degli esseri umani. La vostra cattiveria. Lavoro a 18 ore al giorno, mica come voi qui che non fate un cazzo dalla mattina alla scena. Mi vorrebbe da dire io ci rinuncio perché siete veramente cattivi. Siete veramente dei comunisti. È il caso di dire che la gente come noi non lavora mai. Quindi andate a votare per chi vi pare, fate quello che ritenete opportuno, ma non lasciatemi prendere dal nichilismo e andate a votare. Grazie. Per questo sono scese in campo, perché io credo di poter fare meglio. Non è più il tempo di filosofie da bar. I treni si prendono quando passano. E questo potrebbe non passare più per molti anni. C'è un modo però per uscire democraticamente da questa situazione. Il modo è il seguente. Dare forza a Italia sovrana e popolare. Ditemelo voi. Ditemelo il 25 settembre.